Mi chiamo Alberto Muffato e sono direttore tecnico di Sinergo S.P.A. Sinergo è una società di progettazione che coordinerà il team di progettisti e vincitori del concorso di Palazzo Carcano. Questo team è composto appunto da Sinergo, dallo studio De Mogo, di Alberto Motto, la Simone Gobbo e Davide De Marchi, dall'ingegnere Vincenzo Baccan e dell'archeologa Emma Capurso. Siamo molto soddisfatti di questa vittoria che corona un percorso di collaborazione con De Mogo e con l'Agenzia del De Manio avviato nel 2018, anno in cui vincemo il bando di progettazione per i nuovi uffici della finanza all'interno del compendio della finanza della caserma aereo Bertarini di Bologna. In seguito poi con De Mogo abbiamo seguito altri interventi sempre su committenza del De Manio, la caserma dei carabinieri di Montereale negli Abruzzi e la caserma dei carabinieri di Serravalle nelle Marche. Attualmente stiamo collaborando con De Mogo anche su committenza privata per il progetto della nuova sede della società Gibus, quindi ci auguriamo che questa occasione progettuale confermi la grande collaborazione che c'è tra noi come progettisti e tra il team di progettazione e l'Agenzia del De Manio.